Tutti i colori dell'Africa in piazza delle Piane a Novi Ligure. La tredicesima festa dell'Associazione della Parrocchia di San Pietro, nata per sostenere progetti ed iniziative nel continente nero, è stata un successo. Inserita nell'ambito del calendario di eventi della ventunesima festa dell'acqua, dell'ambiente e della solidarietà, promossa dal gruppo ACOS, la manifestazione ha coinvolto grandi e piccoli che hanno vissuto momenti d'arte, di musica e di condivisione. Noi con questa manifestazione intanto vogliamo far conoscere a tutta la popolazione e anche a chi non conosce ancora cosa facciamo realmente, non qua in Italia ma in Africa, in Burundi. Noi stiamo raccogliendo dei soldi ora per organizzare dei campi di lavoro. I campi di lavoro consistono esclusivamente nel pagare l'iscrizione alla scuola per i bambini, sono un'ottantina in questo preciso momento, per poter costruire le case per i poveri oppure per la pulizia delle strade. Insomma il nostro scopo principale è quello di aiutare la popolazione in Burundi cercando di organizzare al meglio l'istruzione e la popolazione là.